buongiorno a tutti amiche e amici di sport di più una mattinata in compagnia di rafael ciao rafa buona giornata intanto e benvenuto a questo caffè siamo qua in diretta da romeo bistro di verona grazie è un piacere essere qui con voi e prendere un caffè insieme appena svegliati quindi grazie per l'invito non t'abbiamo spero buttato giù dal letto ma insomma la mattinata è ancora orario accettabile un quarto alle 10 dai non non pensiamo di essere stati così tanto invasivi detto questo la prima domanda come ti trovi a verona insomma sei arrivato a verona da pochi mesi come trovi la nostra città benissimo verona veramente una città spettacolare io la conoscevo quando era trento venivo con la famiglia molto spesso a verona per fare una passeggiata prendere un caffè però conoscevo sempre la parte di piazza brano l'arena però adesso che la vivo proprio ogni giorno riesco a fare delle passeggiate bellissime con la famiglia in centro fuori centro conosco posti bellissimi a verona quindi è veramente spettacolare siamo innamorati di verona io e tutta la mia famiglia come come è nata la possibilità di venire a giocare qui alla verona volley se io ero in brasile sono stato prima sono stato in italia per tanti anni quindi avevo tornato in brasilia per un altro obiettivo anche non solo nella pallavolo ma anche con la famiglia di poter stare un po più insieme alla mia famiglia in brasile però la mancanza dell'italia c'era sempre io avevo sempre acceso dentro di me questa questa possibilità di tornare al campionato italiano di poter vivere in italia o a noi io dico noi perché io e la mia famiglia abbiamo un legame così cioè importante e molto bello con l'italia e quindi avevo sempre in mente la possibilità di tornare quindi quest'anno è avuto proprio la possibilità diciamo la più bella che è successo che potrebbe succedere anche perché conosco Genji conosco è l'allenatore che abbiamo lavorato tanti anni insieme quindi quando mi hanno chiamato ho detto subito sì e dopo vediamo cosa cosa succede e quindi sono molto contento di questa scelta oggi sono sicuro di aver fatto la scelta giusta e il campionato è verona volley ne parlavamo poi prima è cominciato non benissimo nel senso finora punti non sono stati portati a casa però la squadra c'è la squadra è giovane ma combatte sì è vero ovviamente siamo molto dispiaciuti per i risultati perché vogliamo vincere tutto quello che possiamo però è verissimo che la squadra c'è la squadra lotta tantissimo stiamo mettendo a posto i meccanismi giusti che abbiamo bisogno in questo momento abbiamo una squadra molto giovane in cui stiamo imparando anche a vivere questi momenti di pressione il campionato italiano è il campionato più forte al mondo e quindi abbiamo avuto anche delle partite importantissime nell'inizio campionato quindi che ci ha messo ancora più difficoltà però la cosa più importante è che la squadra lotta sempre perde e sente molto questa sconfitta vuole fare subito bene lavora subito bene dopo in pallestra e quindi sono sicuro che i momenti belli stanno arrivando anche per noi bisogna avere la testa giusta e continuare a lavorare ancora tanto visto che parliamo caffè con con raffael eccolo qua andrea titolare del romeo bistro buongiorno andrea e ci porta il caffettino esatto caffesino è un'altra cosa che mi mancava tantissimo il caffè italiano è una cosa esiste solo qua solo in italia grazie andrea buona giornata grazie ciao ciao allora beh non si fa cin con il caffè però beviamoci il caffè vedo anche te caffè amaro beh visto che parliamo di colazione come fai la colazione la mattina qual è la tua colazione tipo io per me basta il caffè e una brioche per me va benissimo e poi cerco di fare sempre con la famiglia e qui a verona stiamo trovando dei posti bellissimi per fare la colazione quindi cerchiamo di fare ogni tanto nei posti diversi poter conoscere bene anche poter vivere come un veronese proprio e quella è la cosa più importante per noi anche di poter vivere questa cultura e devo dire la verità siamo trovati benissimi quindi posti bellissimi quindi cercheremo altri posti da bere caffè buoni come questo bere caffè ma anche a questo punto visto che parliamo di di cibo di cucina c'è qualche ricetta che hai qualche piatto particolare che hai già assaggiato di verona insomma qua si mangia la pe a ra con il con il bollito hai già assaggiato o hai qualche altro piatto che hai provato guarda ho provato tanti piatti però il risotto con la marrone per me è sempre sempre la scelta la prima scelta per me e poi sono anche delle carni guancia si dice la guancia con la marrone anche il purè questo per me anche va sempre benissimo quindi ho assaggiato tanti tanti piatti però questi due sono sempre la prima scelta allora diciamo andrea redomi che ti porti ad assaggiare anche la pera perché è fondamentale per chi viene a verona questo è il proprio è come vaccinarci no devi assaggiare la pera detto questo insomma i hai detto risotto a marrone io negli anni ho intervistato altri brasiliani giocatori ed è un un piatto che è molto apprezzato ma detto questo legame con altri giocatori non solo di pallavolo brasiliani ne conosci sì sì io conosco c'è in brasilia tanti giocatori di calcio io sono unnamorato dello sport in generale e quindi sempre che posso vado a guardare delle partite di calcio di basket e qui a verona conosco anche rafael che era un ex sportiere dell'ellas e quindi anche lui mi ha detto alcune cose belle della città ci siamo incontrati qui e poche ore mi ha fatto capire che la città veramente è bella quindi adesso la vivo così è veramente bella poi altri giocatori della pallavolo conosco tantissimi di calcio come ho detto in italia adesso no però in brasilia tanti sono tanti amici che che giocano calcio e come ti ho detto sono innamorato e cerco di seguire sempre che squadra tifi di calcio se c'è una squadra io sono flamenghista che è il flamengo che è una squadra con la tifoseria più grande che c'è in brasilia una squadra che io e tutta la mia famiglia diciamo tra l'altro ha giocato zico tra l'altro infatti anche zico che il nostro nostra bandiera diciamo è lui e qui adesso sono ellas adesso tipo ellas prima per dirvi la verità tifavo milan perché hanno lo stesso colore del del flamengo però adesso poi ho avuto la fortuna della prima o seconda settimana che era verona di poter andare a guardare una partita da ellas contro la inter e quindi mi sono innamorato ancora di più adesso spero di poter guardare ancora altre altre partite beh facciamo un appello visto visto che con l'inter s'è andato e visto la sconfitta adesso facciamo in modo che che se ti sentono quelli dell'ellas che ti facciano andare a vedere qualche parte visto che sta andando molto bene così ti vedi anche una vittoria e poi il pubblico del del dell'ellas è unico sotto questo punto di vista pubblico che è tornato finalmente palazzetto nei palazzetti anche se comunque non ancora al cento per cento era ora comunque bello anche se ci fosse soltanto un tifoso per noi era già molto importante io ho potuto vivere delle emozioni diverse a verona cioè giocando contro noi quindi conosco il palazzetto che ha una tifoseria calda una tifoseria che gioca insieme e quindi poter averli insieme a noi in questo momento importantissimo quindi la prima partita che abbiamo fatto in casa che ho visto i tifosi che ho visto l'emozione loro con noi questo è sempre un facciamo qualcosa in più per noi quindi giocare in casa con loro è come giocare con diciamo un giocatore in più quindi sono molto contento di poter vederli al palazzetto sempre palazzetto parliamo però adesso di rado che è un po è il comandante no è il sergente di ferro di questa squadra il palazzetto è la sua seconda casa mi dicevi quando è in campo è quadrato e non lo sposti da lì che spiega un po che allenatore è lui è un allenatore unico diciamo io ho avuto la fortuna di poter lavorare insieme a lui per tanti anni e anche la gioia e la fortuna di aver vinto tanto insieme quando per dire la verità quando ero in brasilia prima di venire a verona quando ho deciso di venire di va bene rado avrà cambiato qualcosa sarà cambiato non so sarà diverso adesso con l'età magari si cambia sono arrivato ancora peggio peggio nel senso di spingere di più di avere questa voglia di vincere ancora di più e quindi questo è magnifico è bellissimo veramente perché è uno che fa sempre qualcosa in più è uno che ci spinge a fare qualcosa di diverso no perché per vincere come come ha vinto come abbiamo vinto insieme per forse dobbiamo fare qualcosa in più in più degli altri quindi quello ci luci spinge tanto a fare queste cose quindi sono contento di trovarlo qui e con una squadra giovane che ha tanto da imparare di queste di questo aspetto lui allena ma trasmette anche una mentalità vincente ed è questo il segreto un po di rado la squadra tu lo conosci da tanto quindi meno male sai i suoi picchi ma la squadra come sta assimilando le indicazioni di rado alcuni lo conoscono anche già alcune no e quindi è anche importante diciamo che io ho questo ruolo diciamo di poter parlare con loro di spiegare anche come è perché fa così cosa vuole lui da noi e quindi diciamo che questa questa esperienza di di avere lui io che posso essere diciamo una un ponte tra tra lui e le squadre e questo è anche bellissimo così loro riescono a capire che è il suo modo di gestire le squadre di voler vincere sempre è così e noi dobbiamo seguirlo per per arrivare a questo obiettivo che abbiamo noi anche questo è il ruolo del capitano no fare anche tramite col mista curiosità numero 7 perché numero 7 che tra l'altro è anche il mio numero preferito chiudo la parentesi no questo è stato io quando avevo 12 anni racconto se posso raccontare velocemente questa storia avevo 12 anni Brasile io facevo tutti gli sport possibili calcio basket pallavolo e il Brasile ha vinto la prima olimpiada nella pallavolo e quindi ho deciso di fare la pallavolo mi sono innamorato della pallavolo io ho chiesto ai miei genitori come regalo di Natale anziché mi dare qualche regalo che mi portassero a San Paolo a fare un test un provino in una squadra siamo arrivati lì erano 5.000 ragazzini e passavano solo 5 e quindi ho passato e lì mi hanno dato il numero 7 nella prima prendi qui il numero 7 e quindi mi ha portato una fortuna incredibile io da lì in poi non mi sono mai lasciato con la 7 ti sei mai lasciato con la 7 senti altra curiosità adesso cambiamolo usciamo un po da facciamo proprio una chiacchierata da bar mi dicevi Verona è una città bella noi veronesi a volte forse ci dimentichiamo della bellezza ma cos'è che ti piace particolarmente alla vita prima l'organizzazione cioè è una cosa bellissima sempre pulita e poi questa vita di poter fare una passeggiata tranquilla con la con la famiglia poter ogni giorno poter vedere cose belle e una storia perché noi in brasilia studiamo queste cose tutte che stiamo vivendo qui no quindi anche una fortuna devo ringraziare dio anche di poter vivere questa questa situazione di poter vivere in una città in cui ho studiato tanto in brasile e adesso poter vivere così vedere queste cose dal vivo è bellissime quindi la cosa migliore secondo me è poter avere questa vita l'organizzazione di poter andare con i bambini tranquilli in scuola quindi sono cose che per noi purtroppo in brasilia non troviamo ancora penso che anche in tante altre parti del mondo è molto difficile avere una vita così ordinata e bella come come la vita a verona e del brasilia però ti manca qualcosa dai sì c'è questo sempre soprattutto la famiglia che è la cosa più importante secondo me quindi la mancanza loro la saudade diciamo noi no che è veramente molta però sono sono cicli della vita in cui dobbiamo veramente capire sono cose che capitano e che magari non capiteranno più avanti e dobbiamo vivere così intensamente e io la vivo così ovviamente ho questa saudade questa nostalgia loro però a me piace tanto essere qui sto vivendo nella miglior maniera possibile qui quindi mi dispiace soltanto come ho detto per il brasilia situazione che stiamo vivendo tutto quello che capita però anche lì spero di poter dare una mano un giorno in brasilia in qualsiasi maniera per poter vivere meglio ma c'è la possibilità che resti anche abitare qui a verona sì questo sì questo parlavamo anche prima c'è la mia moglie e i tre figli sono sono già italiani di da danza e quindi spero io anche poter tornare italiano in qualche anni e quindi dalla la voglia di rimanere a verona c'è anche stiamo anche pensando tanto di poter vivere qui per sempre che sarebbe una cosa bella magari riusciamo a portare qualche qualche familiare qui sarebbe ancora più bello però è vero noi siamo innamorati di verona senti 42 anni sei ancora giovane nel senso anagraficamente sportivamente magari sei considerato tra i vecchi no ecco ma cosa ti spinge andare avanti ancora al di là della passione perché si si vede no c'è ancora lo sguardo attivo quando parli di di pallavolo di palestra di squadra ti si accende lo sguardo ma cosa ti fa andare avanti ancora soprattutto la passione questa è la cosa più importante che io amo la pallavolo la pallavolo mi ha regalato tanto nella mia vita e quindi l'amo proprio così poi c'è da dire anche che sono un po' fortunato nel senso che non ho nessun male non sono mai fatto male così qualcosa di grave o quindi questo è molto importante anche e anche il mio ruolo non è un ruolo in cui ho bisogno di tanta forza tanto no è un ruolo un po diverso in cui l'esperienza conta tanto però la cosa che mi motiva di più oggi è poter avere la possibilità di avere un diciamo un legato c'è questa parola italiana ma un legato di poter passare qualcosa ai giovani e di poter aiutarli a capire la strada giusta per arrivare ai nostri obiettivi poter vederli crescere e imparare tanto nella pallavolo quindi ci sono tanti momenti della nostra carriera in cui dobbiamo capire qual è il nostro ruolo e quindi sto capendo bene quello che devo fare adesso che è molto diverso di quello che facevo dieci anni fa e quindi per me è molto bello e molto motivante una motivazione incredibile adesso per di poter fare bene di poter migliorare un'altra cosa che penso anche che l'età è ovviamente conta però abbiamo sempre qualcosa da imparare sempre sempre in tutti tutti aspetti quindi sto imparando tanto con questa squadra giovani quindi sono ancora molto motivato di poter fare una bella stagione quanto è cambiata la pallavolo da quando iniziato tu tanto tantissimo tantissimo in tanti aspetti no anche diciamo solo per la pallavolo tante cose oggi è uno sport molto più veloce molto più con delle persone molto più forte e quindi è molto diverso prima era molto più tecnico e adesso c'è un po meno di tecnica in molta forza però sono riuscito a vivere questo passaggio diciamo di una generazione all'altra e quindi adesso vedo questa differenza però c'è una grande differenza anche della tecnologia che ci fa recuperare ancora meglio per quello anche adesso vedi tanti giocatori di 30 36 37 40 anni che giocano perché c'è la parte di fisioterapia è migliorata tantissimo i dottori scarpe perché tutti questi ci aiutano tanto a poter ancora avere questa questa lunga vita diciamo nello sport una volle società nuova tu sei arrivato e come come la giudichi va beh che insomma è presto però le persone poi alla fine sono quelle che fanno differenza verissimo questa è la prima cosa che ho visto quando sono arrivato e la cosa che mi ha colpito di più positivamente è che non solo gli atleti vivono così intensamente in questo momento questa nuova società ma tutti quelli che lavorano dietro che non si fanno vedere tanto no però lavorano con un'intensità così grande con un amore così grande con la società un'atmosfera di lavoro una cosa impressionante che vogliono sempre fare bene quindi diciamo che questa società è davvero una squadra tutti e qui e questo mi ha colpito quindi tutti lavorano insieme tutti soffrono quando perdiamo e godiamo insieme quando vinciamo quindi è veramente bello questiona diciamo una motivazione in più e poter essere diciamo il primo capitano di questa società nuova società è anche un onore e una felicità molto grandi quindi spero di poter cominciare qui o aver cominciato una storia bellissima anche nella palavolo fuori dalla palestra tra figli una moglie una famiglia quindi la famiglia è al centro di tutto ma cosa ti piace fare nel tempo libero sempre con loro a me piace sempre sempre poi cerco di approfittare tantissimo i bambini facciamo sempre giri a verona loro giocano palavolo anche no e quindi sono piccoli sono piccoli il più grande ha 10 anni quindi solo per farvi capire però ci sono nati praticamente dentro il palazzetto quindi stare con loro poter giocare insieme poter guardare un film insieme che sia per me è sempre la gioia più grande quindi tutto che posso fare con loro quando sono in tempo libero sono sempre con loro senti insomma gli argomenti sono tanti è anche inevitabile non parlare del coronavirus del covid-19 che un po' ha minato un po' tutta la società ma soprattutto lo sport è stato molto penalizzato ora si sta tornando verso la normalità tu come hai vissuto questo periodo di restrizioni? io nell'inizio ero in Brasile quindi ancora lì la situazione è brutta migliora un po' però è molto brutta io mi dispiace tantissimo per tutto quello che abbiamo vissuto tanta gente che ha dovuto smettere di lavorare ha dovuto chiudere il negozio quindi questo mi piace tanta gente che ha perso tanti familiari amici quindi questo fa male proprio spero che questo ci possa insegnare qualcosa anche che adesso da adesso in poi possiamo guardare un po' più in generale non solo a noi stessi e possiamo vivere meglio diciamo ovviamente nessuno voleva che capitasse questa situazione cioè se potessimo tornare indietro e escludere proprio questo delle nostre vite ovviamente tutti le faranno però adesso dobbiamo imparare qualcosa adesso che è successo dobbiamo imparare e imparare a vivere meglio tutti insieme e aiutarci quindi quella secondo me è la cosa più importante che dobbiamo capire adesso senti Raffa tra 15 anni quando smetterai di giocare cosa me l'hai detto il mondo della pallavolo è il tuo mondo ma ti piacerebbe restare all'interno o fare qualcos'altro? sì a me piacerebbe alcuni mi chiedono perché adesso è un po' normale diciamo che uno comincia a pensare da smettere ah voglio fare allenatore no io no io ovviamente no allenatore no però stare in mezzo alla pallavolo sì se posso dare un contributo in un'altra maniera se posso far parte di un gruppo in un'altra maniera che non sia allenatore o vice allenatore no però a me piacerebbe molto è difficile immaginare io che ho 42 anni da 30 anni che faccio questo che mi sveglio e penso a migliorare penso a vincere penso a poter fare qualcosa di diverso smettere e non vedere più la pallavolo in mia vita è qualcosa che è impossibile da immaginare poi anche per quello prego ogni giorno per cui i miei figli possono giocare perché così posso vivere ancora quelle emozioni avere quella diciamo quella quella voglia di andare in palestra e vincere e vederli vincere e soffrire e godere insieme loro cioè quello sarebbe bellissimo quindi non riesco a vedere la pallavolo lontana dalla mia vita tu hai vinto tantissimo il tuo curriculum non lo leggiamo ma insomma è enorme è enorme medaglie d'oro campionati coppe vincere è fondamentale nello sport? sì io posso dire di sì ovvio che è importantissimo partecipare lottare però vincere è quello che è quello che sogniamo tutti noi quindi è la cosa più bella è poter vivere c'è proprio quello momento in cui sogniamo da quando iniziamo a giocare da quando facciamo un bagger io penso sempre a quello faccio un palleggio penso sempre a quello perché è quello che dobbiamo cercare è la vittoria è quello momento speciale è la sensazione di aver fatto bene il lavoro di due tre anni fa anche non è una cosa del momento proprio si vince la partita molto prima cioè non è proprio nella domenica che si vince la partita e quindi di aver proprio fatto quel lavoro perché tante volte facciamo un bel lavoro però non riusciamo a vincere è quello diciamo che è bello però non è sufficiente quindi vincere è quello che ci fa veramente spingere ancora di più la sconfitta però fa parte del gioco è della sconfitta che si creano poi i presupposti per vincere? sicuramente è quello che fa parte e è la cosa più importante è quello che riescono a vincere tanto riescono a imparare tanto con la sconfitta perché come ti dicevo anche prima c'è una squadra che perde e va tutto bene cioè quello è un brutto segno e quando si perde e si soffre e si chiede tanto e si fa delle domande questa è l'abitudine giusta per quello che perde e vuole raggiungere la vittoria sempre quindi soffrire con la sconfitta e imparare soprattutto con quelle sconfitte è la cosa più importante è quello che sta succedendo adesso al Verona Volley senti, ultime domande beh, che 2021 è stato per te? per me 2021 diciamo se guardiamo la parte del COVID come abbiamo detto vorrei proprio dimenticare però diciamo nella parte sportiva nella parte della mia famiglia di poter tornare in Italia diciamo è un sogno cioè non potevo immaginare di tornare in questo senso di poter ancora cercare di costruire una storia bella nella Palavolo nel campionato più bello del mondo poter venire in una città dove si sta benissimo dove abbiamo la possibilità di avere una vita bella insieme alla famiglia quindi 2021 è stato diciamo tranne quella parte del COVID un anno speciale per me e se potessi chiedere qualcosa a livello sportivo e a livello umano e di famiglia cosa chiederesti? io prego ogni giorno che che Dio ti dia sempre la salute il resto andiamo a lavorare andiamo dietro a tutto quello che vogliamo però diciamo che per la Palavolo io vorrei veramente poter fare una bella storia a Verona che la merita tantissimo una come ho detto prima una squadra in cui una società in cui tutti lavorano con entusiasmo incredibile e quindi sarebbe davvero bellissimo avere una storia bella un regalo per noi in questo 2022 quindi quello sarà l'obiettivo principale bene Raffa allora intanto grazie di essere stato qui con noi questa mattina grazie del caffè ringraziamo Andrea del Romeo Bistrò e magari ci prenotiamo per venire qua a brindare con una casciassa l'abbiamo visto prima esatto alla prima vittoria del Verona Vole che ci auguriamo anzi siamo convinti che manca veramente poco c'è Andrea che sta facendo Andrea Domi che sta facendo le corna però insomma non siamo scaramanti sei scaramantico tu? può sì allora 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 prenotiamo prenotiamo una caipirigna a prescindere qui e ti ringrazio ancora buona giornata buona pratita la prossima che vi vedrà in campo domenica ringraziamo chi ci ha seguito questa mattina appuntamento la settimana prossima per un altro caffè con un altro capitano o con un altro rappresentante dello sport veronese grazie e buona giornata a tutti ciao ciao Rafa ciao ciao grazie un piacere è un piacere per me veramente mi è fatto anche molto piacere conoscerti perché sei una bella grazie grazie mille anche per me grazie mille 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 grazie mille